Urge. Urge il tempo del capire, nella preziosa opportunità, l'abbandonare, il lasciare andare, quell'abitudine di guardare solo a noi, per noi. Nessuno è possessore o sovrano di qualcosa. L'ego solo fa creare, immaginare. Il recinto è in sé del soddisfare, cercando senza mai trovare la direzione, la comprensione. La vera decisione è l'abbandono, senza condizione, di quel recinto di confusione, aprendo, desiderando, sentendo, con tutto il cuore che non esiste separazione tra il me e tutti gli esseri. Sentire questo nel nostro centro, non solo come sentimento, ma radiante rivelazione di grande vera verità. Illumina senza ostruzione l'amore, la gioia, la compassione, aprendo l'equanime visione che fino a poco tempo fa non conosceva e ora sa. Il saggio sentiero, eccolo qua.